Resta in carcere il cinese di 28 anni, arrestato dalla polizia la notte tra il 5 e il 6 ottobre per avere selvaggiamente picchiato la moglie incinta di 4 mesi. Oggi il giudice delle indagini preliminari ha convalidato l'arresto e ha accolto la richiesta di custodia cautelare in carcere avanzata dalla procura. La vittima del pestaggio, una cinese di 26 anni, è stata dimessa dall'ospedale ed è tornata a casa, a mezzana, dai suoi figli piccoli. I sanitari hanno rilasciato un referto di 40 giorni per la rottura del setto nasale e numerose altre ferite in varie parti del corpo. Violentissima l'aggressione subita dalla donna, pugni, calci, schiaffi, spinte, cazzotti, assestati dal marito, completamente ubriaco. Un'aggressione, non la prima secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, particolarmente cruenta. Urla e pianti arrivati all'orecchio di uno dei vicini di casa della coppia, un finanziere che ha suonato il campanello dell'appartamento. La fortuna della vittima è stata quella di riuscire ad aprire la porta e a correre sul pianerottolo. Il finanziere non si è limitato ad avvertire la polizia, ma ha difeso la donna, portandola al sicuro e al riparo dal marito. Gli inquirenti che hanno ricostruito l'episodio, accertando precedenti dei quali la donna è stata vittima senza mai denunciare, sono convinti che se non fosse stato per l'intervento del vicino di casa, l'aggressione sarebbe sfociata in una tragedia. Arrestato in flagranza di reato, il 28enne deve rispondere di maltrattamenti in famiglia.